Lo spazio di accoglienza per i giovani non è solo il parco pubblico. Risponde così il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, alla nostra domanda riguardo gli interventi da realizzare per recuperare l'aria gioco nel parco pubblico di Via Taverne. Nei giorni scorsi, ma non solo, tante sono state le segnalazioni di genitori, anche con foto, di com'è la situazione attuale. Ma secondo quanto afferma il primo cittadino agropolese, le strutture sportive basterebbero a compensare le esigenze di tutte le fasce d'età. Sindaco, lei ha parlato di spazi, ne approfitto per insomma sottolineare un qualcosa che non va nella città di Agropoli, gli spazi per i bambini. Ecco, tanti cittadini sui social, ma non solo, anche attraverso la nostra mail hanno segnalato più volte, e ne abbiamo parlato anche in passato, del parco pubblico che verse in un degrado davvero sconcertante, ma anche altri spazi pubblici dove ci sono le giustrine, ad esclusione di quella del porto, che è la più nuova, insomma l'area più nuova di gioco per bambini. Che cosa si può fare, cosa possiamo dire di reale ai cittadini per recuperare quell'area che c'è un progetto importante, partirà, non partirà, come state messi? Allora, innanzitutto voglio sottolineare che lo spazio di accoglienza per i giovani non è solo il parco pubblico. Io penso che decine di ragazzi hanno trovato accoglienza nelle strutture che abbiamo costruito, palazzetti, palestre, campi di calcio, campi di calcetto, insomma abbiamo trovato degli spazi ludici a 360 gradi e non è un caso che Agropoli è tra le città più importanti del sud Italia, proprio nelle sue strutture sportive. E nelle strutture sportive non ci vanno soltanto gli atleti, ci vanno pure i nostri ragazzi, i nostri figli, che credo chi non ha un bambino che va alla scuola a calcio, piuttosto che al basket, piuttosto che alla ballavolo, piuttosto che altri sport che pure accogliamo nelle palestre. Quindi è chiaro che per i luoghi ludici il grosso l'abbiamo risolto. Va completato il ragionamento del parco, del parco pubblico che naturalmente deve essere un luogo non solo per i bambini ma un luogo di accoglienza per tutti, anche per le persone più grandi evidentemente. E questo è un problema che abbiamo annunciato diverse volte e non l'abbiamo risolto, quindi voglio evitare di annunciare nuovamente e voglio chiamarvi quando saremo pronti per inaugurare come abbiamo fatto oggi. Ci vorrà ancora qualche settimana, qualche mese, però arriveremo anche a mettere a posto il nostro parco pubblico. Però voglio dire a chi si lamenta del fatto che abbiamo un parco da mettere a posto, non dimentici che gli spazi ludici sono soprattutto i luoghi dove si svolge lo sport e penso che lì siamo forniti abbastanza bene. Stiamo parlando della fascia di bambini piccoli che insomma trova spesso attualmente giostrine rotte e non ha la possibilità di far godere insomma dell'aria aperta né di giochi ai propri piccini e quello è il disagio. Questo l'ho capito.